Un'area di circa 70.000 metri quadrati a bussi sul Tirino, inquinata perché lì nel corso degli anni sono stati depositati rifiuti diversi da quelli autorizzati e perché è risultata priva di opere di copertura e di messa in sicurezza. E' quella composta dalle ex discariche 2A e 2B più le zone limitrofe. Le responsabilità di tutto ciò su Edison S.p.A. Ora lo afferma anche un'apposita ordinanza emessa dalla provincia di Pescara frutto di anni di indagini e studi condotti dalla polizia provinciale in collaborazione con Arta Regione Abruzzo e Ministero dell'Ambiente. Noi abbiamo anche in qualche modo fatto sì che l'ordinanza emessa appunto il 26 di giugno del mese scorso fosse chiara e inequivocabile ed è stata anche notificata a tutti gli enti tra cui anche il Ministero, la Solvei e chiaramente l'Edison, il comune che attualmente è proprietario del sito ma essenzialmente lo abbiamo fatto perché entro i 30 giorni successivi sono tenuti ad empiere una serie di procedure importanti perché quell'area deve essere necessariamente bonificata e noi dobbiamo consentire ai cittadini, alle tante persone che vivono in quella realtà di cominciare a pensare che gli enti si siano non solo impegnati a mettere le ordinanze ma a eseguirle nei termini di legge. C'è qualcosa che non va però ed è il processo di bonifica che non si è ancora attivato, un fatto che suscita la stizza del sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta. Siamo molto preoccupati, ho fatto un incontro al Ministero la settimana scorsa, ho scritto una lettera al Ministro subito dopo l'incontro e purtroppo ho scoperto che nella sostanza è tutto fermo. Cioè il Ministero ha proceduto a finire la gara, ha individuato l'azienda ma da quella data ad oggi nulla si è mosso. Vi dico, non c'è il progetto definitivo, non c'è il progetto esecutivo, non c'è un quadro economico, non è stato individuato il direttore dei lavori, non è stato seglato il contratto, non c'è stato il trasferimento delle somme dal capitolo speciale ai capitoli ordinari, è tutto fermo e questa non può essere una casualità, qualcosa c'è. Ho già attivato una messa in mora del RUP e la prossima settimana se non avrò segnali precise anche da parte del Ministero mi attiverò nei confronti del Ministero. Grazie.